0-0, mentre la Roma deve vincere a tutti i costi. Al 75esimo minuto, Bruno Conti spedisce un pallone insidioso nell'area di rigore bianconera. Russo salta di testa nella spalla di Gentili. Ho messo questa pallone in mezzo e ho visto sbucare un giocatore dei nostri. Lui colpiste di testa a me, io arrivo, non riesco a arrivare. Voi dire che stavo indietro alla linea del pallone, che vuol dire che io non ero in fuori gioco io. A un certo punto entra Ramon Turone, che era, bisogna dire bene, lui era defensore, non poteva essere già lì, perché era un defensore. Veniva lui, perché era un giocatore di contropiede, e si butta di tuffo e fa un gol. Maurizio Ramon Turone corre esultante per festeggiare il gol della vittoria. Ma viene freddato dalla bandierina del guardalini. Fuori gioco, il gol è annullato. Nessuno mai ha detto il fuori gioco di chi era. Non sono sentito mai dire o del guardalini, o del hábito, di chi era, che poi l'habito era Paolo Bergo, il guardalini, non mi ricordo. Di chi era il fuori gioco? Grazie. Va bene. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Vim